Belen Rodriguez è la testimonial più hot di sempre secondo i fan Belen Rodriguez è la testimonial più sensuale e hot di sempre, lo confermano i fan che ogni giorno la seguono su social e in particolare su Instagram La showgirl argentina ha un corpo perfetto e non ha timore di mostrarlo in pubblico, proprio come ha fatto nell'ultimo video pubblicato su Instagram, in cui si muove in modo sensuale, mentre indossa l'intimo Iadea, di cui è testimonio In poche ore la star ha raggiunto più di 86.000 like e oltre 800 commenti di apprezzamento per questa sua nuova collaborazione Dopo gli occhiali, le piastre per capelli e i vestiti, è arrivato il momento per Belen anche di promuovere la nuova linea di intimo del brand italiano Nel video la showgirl argentina si trova in un ambiente dai toni bianchi e si muove sulle note della musica, mentre si toglie un chiodo dorato e mostra un completo di intimo nero con i brillantini Belen Rodriguez, sexy e con un corpo perfetto Belen Rodriguez non perde mai l'occasione di mostrare la perfezione del suo corpo, lo ha fatto numerose volte quest'estate sfoggiando bikini all'ultimo grido e torna a farlo anche ora, per la nuova campagna del brand di Iadea Secondo i fan è la testimonial più hot di sempre e ogni giorno la seguono in modo assiduo, mettendo like e commentando ogni sua foto Le foto pubblicate su Instagram nell'ultima settimana riguardano tutte le collaborazioni che la star ha sviluppato con alcuni dei maggiori brand mondiali Si va da Swarovski, per cui Belen ha partecipato a un evento di gala indossando un abito brillantinato verde, ai famosi saloni di bellezza Kotrill, in cui la showgirl si fa sempre a conciature perfette In questo caso, prima di partecipare alla serata di Moschino, la Rodriguez ha fatto sosta proprio in uno dei saloni del brand per farsi una maschera rigenerante per i capelli In seguito su Instagram ha pubblicato una foto che la ritrae mentre beveva una bibita davanti a un frigorifero indossando una t-shirt sportiva, per sponsorizzare la capsule collection del brand di Lill Infine su social ha spopolato il video in cui si muove sensuale mostrando la nuova linea di bikini di Lilledea, proprio come una venere greca di altri tempi Sempre hot su social, Belen è la regina di Instagram Il profilo Instagram di Belen Rodriguez mostra una grande varietà di foto, dai selfie agli shotting hot, passando per le foto in stile molto naturale, mentre si trova in casa con il figlio Santiago e il compagno Iannone La sua bellezza e la sua sensualità hanno fatto innamorare il pubblico italiano, che la riempie ogni giorno di like e commenti, in particolare quando la showgirl mostra il suo corpo perfetto Gli scatti hot su social sono un vero most per lei, come il video testimonial per Iadea o come la foto con l'outfit per l'evento di Moschino in cui indossava una minigonna, molto corta Una delle foto più amate di sempre su Instagram è stata quella per la nuova campagna dei saloni Cotril, che la ritraeva completamente nuda su uno sfondo grigio, mentre si copriva solo con le mani Anche quest'estate la showgirl ha stregato i fan con numerose foto in bikini o addirittura in topless Anche quest'estate